Da diversi mesi via Alberto da Sarteano in zona Monti di San Paolo ad Acilia è chiusa al traffico a causa di un muro pericolante. Si tratta di una strada di fondamentale importanza per i cittadini che permette di uscire dal quartiere e dirigersi verso Roma evitando di mettersi in via dei Monti di San Paolo. Questa strada è chiusa da sei mesi e diciamo perché cosa? Perché un muro in pratica sta crollando di un privato. È una strada in pratica che può far levare molto traffico su via dei Monti di San Paolo perché adesso tutti per andare verso Roma devono passare su via dei Monti di San Paolo per poi andare a prendere lo stiense sulla via del mare. Da qui invece si può tagliare un bel pezzo e quindi prendere lo stiense e andarsene direttamente a Roma. Nessuno può passare, sono sei mesi che stiamo in queste condizioni. Abbiamo chiesto al municipio spiegazioni ma non ci è arrivato niente. Abbiamo scritto e non sappiamo niente di nulla quando verrà in pratica riaperta la strada e quando verranno fatti i lavori perché come vedete il muro ancora sta così. Quindi comunque questa è una strada importante per il quartiere? È importantissima perché alleggerisce tutta la fila che la mattina si forma sulla via del mare e questa è una via che porta sulla Romagnoli andando a Ostia oppure sull'altra per poter andare a Roma. Alleggerisce tutto l'ingorgo che c'è la mattina presto per la gente che va al lavoro. Quindi adesso anche chi vive in quest'area del quartiere comunque è costretto a prendere via dei Monti di San Paolo per poter andare o verso Roma o verso Ostia creando ancora più traffico? Certo, sicuramente. Tutte le mattine è tutto bloccato. Sarebbe opportuno che venisse risanata in maniera che noi possiamo camminare con una certa tranquillità, soprattutto noi anziani e anche per i bambini. E poi sicuramente, come avranno detto altre persone, alleggerisce il traffico che verte su via dei Romagnoli, via Ostiense e anche per andare dall'altra parte, all'Eur, a via Cristoforo Colombo, per attraversare la via d'Acilia. È parecchio ingorgata. Anche quando viene mia figlia, per esempio, che ci fa assistenza e che siamo anziani, lei tante volte dice esco un'ora prima perché trovo parecchio traffico. Quindi l'importante sarebbe quello di risanare le cose che non vanno bene, insomma.